Desidero rivolgere il mio più caloroso augurio per le eminenti festività natalizie a voi tutti, prefetti, donne e uomini dell'amministrazione civile dell'interno, della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Quello che sta per concludersi è stato un anno complesso che, anche sotto la spinta del quadro internazionale, ci ha portato a dover affrontare nuove situazioni di crisi e scenari inediti. Grazie alla vostra professionalità abbiamo fronteggiato efficacemente ogni sfida, ponendoci sempre al servizio dei cittadini e dei territori, che sanno di poter contare in ogni frangente sul Ministero dell'Interno e su ogni sua articolazione territoriale. Unità, forte coesione tra le componenti e capacità di operare in sinergia sono le caratteristiche che rendono questa amministrazione l'ossatura portante dell'intero sistema Paese. E proprio questa attitudine a lavorare in squadra consente di costruire comunità più coese e sicure, oltre che di rispondere con tempestività ad ogni emergenza. Tale propensione rappresenta il senso più profondo del vostro operare, sempre al fianco dei cittadini. È così che trova a concreta realizzazione il valore della prossimità, che è l'autentica dimensione dell'amministrazione dell'interno. È un compito impegnativo in cui mettete in campo equilibrio, senso di responsabilità e credibilità. Altissimi sono i valori in gioco sullo sfondo delle funzioni che siete chiamate ad esercitare per dare attuazioni in concreto ai diritti civili, politici e sociali sanciti dalla nostra Carta Costituzionale. E per questo desidero rivolgervi un particolare ringraziamento, perché proprio quando si aprono divisioni e disgregazioni, là siete chiamati ad unire, a promuovere dialogo e confronto con una visione capace al contempo di difendere e di costruire. Ognuno di voi rappresenta un saldo presidio di democrazia, in quanto chiamato quotidianamente a svolgere nei più diversi contesti le missioni istituzionali e proprie di questa amministrazione con elevatissima professionalità, straordinaria dedizione e costante fermezza. E i risultati raggiunti nel corso di quest'anno sono lì a dimostrarlo. Penso agli sforzi compiuti nella lotta alla criminalità organizzata, nell'innalzamento dei livelli di sicurezza urbana e nella promozione della legalità specie nei contesti di maggiore degrado. Penso al grande lavoro compiuto nella gestione dei flussi migratori, nell'assicurare il corretto funzionamento delle amministrazioni locali e nel garantire sempre la coesione sociale nei territori. Così come non posso tralasciare le complesse attività di soccorso pubblico alle popolazioni che nel corso dell'anno sono state colpite dalle emergenze di protezione civile. Il generale apprezzamento nei confronti della squadra del Ministero dell'Interno ha trovato piena considerazione anche nelle previsioni normative di carattere ordinamentale ed economico che valorizzano l'impegno quotidiano e la professionalità di tutti voi. A questo ci accompagna il grande sforzo di rafforzamento degli organici di tutte le componenti della nostra amministrazione che consentirà di porre in essere un importante ricambio generazionale nei vari ruoli. Si tratta di un percorso che ho ritenuto convintamente di intraprendere e che anche in prospettiva continueremo a sostenere per accrescere le capacità delle diverse componenti della nostra amministrazione di far fronte ai bisogni del Paese. E con queste certezze che guardo al futuro con fiducia ed ottimismo, certo che ogni sfida possa essere raccolta e vinta grazie alla passione, alla determinazione, alle competenze e all'impegno che ciascuno di voi profonde nell'esercizio delle proprie responsabilità. Permettetemi di approfittare di questa occasione per ringraziarvi della vicinanza e del sostegno di cui mi sento quotidianamente circondato e sono sentimenti che ricambio con sincerità. Come cittadini anch'io ripongo grande fiducia nel vostro leale impegno che sarà chiamato ancora una volta ad accompagnare il cammino del nostro Paese verso prospettive che, ci auguriamo, possano essere sempre migliori. Sono consapevole che il compito non è facile, ma il lavoro che ci attende e che onoreremo, mettendoci coraggio, generosità, passione ed umanità, sarà anche un modo per rendere meno doloroso il ricordo di tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per l'intera collettività e ad essi va la nostra gratitudine e il nostro commosso ricordo. E sono certo di rappresentare il sentimento di tutto il Paese formulando a voi e a tutte le vostre famiglie i miei più sinceri auguri di un sereno Natale e di un felice anno nuovo.